il famosissimo cantante italiano nec alla nagrafe filippo neviani pensate che ha suonato per la prima volta il pianoforte dopo il problema o meglio dopo l'incidente che ha avuto poco tempo fa è un primo passo verso la normalità mi permetto di dire nec apparsa in spagna la forma al programma da noi a ruota libera su rai 1 il programma di intrattenimento e vi ricordo che la conduttrice francesca sialdini sarebbe rifiutata positiva al corrido di conseguenza nec assumo di recente il piano è apparso in ottima forma fisica secondo la mia opinione secondo il mio punto di vista e nonostante il problema alla mano ecco che sta recuperando in maniera egregia azzardo a dire perfetta bene vi ringrazio per la visione vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua questo video non vuoi rendere la bravesi di nec alla nagrafe filippo neviani ma solo informare eventuali persone grazie a tutti al prossimo video